Adesso è una bellissima giornata di sole, non viene tanta voglia di chiudersi in un cinema, ma fra poco ci sono gli schermi del Lucca Film Festival che si accendono e con il festival anche tanti ospiti, tra i quali Ethan Hawke, che era uno dei ragazzi dell'attimo fuggente di Peter Weir con Robin Williams e poi è stato uno dei protagonisti di una trilogia fantastica diretta da Richard Linklater che si chiama Prima dell'alba, Prima del tramonto, Prima di mezzanotte. Due attori praticamente in scena, Ethan Hawke e Julie Delpy, nel corso di 20 anni, cioè loro invecchiano realmente e invecchiano anche i loro personaggi nel film. Uno degli esperimenti più belli tra la realtà e la finzione, il tempo reale e il tempo della finzione e così come Boyhood, in cui Ethan Hawke fa il padre del protagonista. Bene, questo attore sarà tra gli ospiti del Lucca Film Festival, in programma nella cittadina toscana la prossima settimana ed è solo uno dei modi per avvicinarsi al cinema fatto ai suoi protagonisti e si possono conoscere meglio se fa il giornalista cinematografico, cioè se puoi intervistare, se puoi scrivere recensioni, se puoi occuparti professionalmente di cinema. Io tengo un corso sul giornalismo cinematografico, su Zoom, a partire dal 15 di ottobre, lezioni ogni settimana, esercizi, interviste, incontri con ospiti, tutto questo con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Ogni formazione ha info.cinemaimmagina.it oppure anche provate a scrivermi sui mie social Giovanni Bogani.